Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. Potature in via Cilicia, oggi la strada è chiusa al traffico e sono deviate anche le linee bus 30 in direzione di piazzale Clodio e 77 in arrivo da piazzale Ostiense. La riapertura della strada è prevista per le 20. Dalle 10 invece processione in centro, partenza da piazza del Pasquino e arrivo in via della conciliazione, possibili rallentamenti alla circolazione o temporanei chiusure potranno interessare anche Corso Vittorio Emanuele, Borgo Sant'Angelo e via della Traspontina. Infine sempre questa mattina in piazza Santi Apostoli dalle 11 alle 13 è in programma una manifestazione sul tema della sicurezza stradale. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della mobilità.